Sono otto i candidati a governatore della regione toscana. E' quanto emerge in modo definitivo alla chiusura della presentazione delle liste in corte d'appello. Liste che in totale sono 15 per oltre mille candidati in tutto. La battaglia più interessante è senza dubbio quella di vertice, tra chi ha effettivamente chance di governare la regione, anche se tra i sette c'è da giurare che qualche carneade, qualche sconosciuto per i toscani c'è anche stavolta e tale probabilmente rimarrà. I candidati sono Eugenio Gianni, presidente del Consiglio regionale uscente per una coalizione di centro-sinistra sostenuta da sei liste, PD, Italia Viva con più Europa, Orgoglio Toscana per Gianni, presidente, Verdi, sinistra civica e ecologista e svolta. Susanna Ciccardi, europarlamentare della Lega, è schierata dal centro-destra ed è sostenuta da quattro liste, Lega, Forza Italia, Fratelli d'Italia e Toscana Civica. Irene Galletti è la candidata del Movimento 5 Stelle con unica lista. Tommaso Fattori corre per Toscana a sinistra, anche lui ha una lista unica. Altri candidati per il ruolo di governatore della Toscana sono anche Roberto Salvini, compatto per la Toscana consigliere regionale uscente della Lega, omonimo del più famoso Matteo Salvini, era stato sospeso un anno fa, dopo la proposta di mettere le donne in vetrina per favorire il turismo. E poi c'è Marco Barzanti per il PC, riporta il simbolo storico della falce e martello, a correre alle elezioni dopo 30 anni di assenza l'ultima volta era caduto nel lontano 1990. Salvatore Catello per il PC, questi ultimi candidati sono tutti sostenuti da un'unica lista. Infine abbiamo Tiziana Vigni, esponente del Movimento 3V. Alle urne del 20 e 21 settembre sarà eletto presidente che al primo turno supererà la soglia del 40%, altrimenti si andrà al ballottaggio il 4 ottobre.